La casa di riposo che si ritrova al centro di Vercelli diventerà sempre una struttura aperta, una struttura che si comunica col territorio e con il territorio vuole intrecciarsi e continuare a fare tante queste giornate. Questa giornata è una giornata di festa, noi ringraziamo Amazon che ci ha permesso anche di coltivare questa giornata. Un bel connubio, casa di riposo, Amazon, ragazzi dell'alberghiero. Sono tre aspetti importanti della nostra società. La casa di riposo che ha una sua centralità nella nostra Vercelli, Amazon che guarda il futuro, guarda i posti di lavoro, ha portato posti di lavoro i ragazzi dell'alberghiero disponibili per realizzare questo bellissimo pranzo. Devo dire che grazie alla disponibilità della casa di riposo e del presidente Di Meglio è stato possibile realizzare questo bellissimo evento con Amazon. È molto bello, i ragazzi di Amazon che servono ai tavoli, servono ai nostri anziani, alle politiche sociali della nostra città. Questa disponibilità ad essere qui, ad intrattenere con musica, a servire a tavola, che nell'occasione del Santo Natale sia veramente eccezionale e ci dia una prospettiva futura ottima di valorizzazione di quelle che sono le strutture della nostra città guardando al futuro. Sicuramente Amazon non si ferma con questa iniziativa. Nei prossimi giorni, proprio in occasione del Natale, avremo modo di rilanciare altre iniziative che si etterranno qui a Vercelli. In particolare ci sarà una bellissima iniziativa rivolta ai bambini vercellesi. Mi chiamo Barbara Coronella. Per noi è piacere partecipare alle iniziative di questo genere. Abbiamo iniziato a parlarne qualche settimana fa con l'amministrazione comunale assieme anche ai responsabili della casa di riposo. Lo sapete che il centro di distribuzione è aperto a inizio settembre e uno dei nostri obiettivi è anche quello di organizzare eventi che abbiano a che fare con la comunità locale e appunto l'evento che abbiamo deciso di organizzare oggi rientra all'interno di queste attività. Io applaudo a questa iniziativa di Amazon, ringrazio la casa di riposo, ringrazio anche tra l'altro l'istituto alberghiero di Trino che si è così gentilmente prestato ad offrire il pranzo. Quindi fra tutti è venuta una bellissima festa. Per quanto riguarda le politiche sociali del Comune di Vercelli siamo sempre pronti a qualsiasi iniziativa soprattutto in favore degli anziani, qualsiasi iniziativa con Amazon, con la casa di riposo o con chiunque per rendere anche per momenti di festa che sono importanti, momenti di socializzazione. Grazie. Grazie.